Alla ricerca del panino perduto nelle mense scolastiche di Messina. Un nuovo stop al servizio si profila dal 15 aprile perché l'amministrazione municipale, malgrado gli impegni assunti, non ha aggiornato la proroga. Eppure già da venerdì 8 aprile qualche dirigenza scolastica ha detto agli alunni di attrezzarsi da casa con il panino nel proprio zainetto. La scadenza dell'ultimo bando è segnata il 15 aprile. I finanziamenti necessari per coprire gli stipendi dei lavoratori delle cooperative non sono comparsi in nessun capitolo del bilancio di Palazzo Zanca. La differenza è che ad occuparsene non sarà più Patrizia Panarello, ormai ex assessore alla pubblica istruzione, ma la nuova incarica Daniela Ursino. Per scongiurare quanto è accaduto a inizio anno con la refezione scolastica sospesa e pesanti disagi per gli istituti dei quartieri periferici, i sindacati avvisano anche questa volta con un certo anticipo di prorogare il servizio. Non ci sarà più il problema del riscaldamento perché fortunatamente siamo in primavera e non ci chiediamo dove siano le forniture di gasolio, ma le parti sociali preannunciano una forte protesta a oltranza a difesa di un'attività importante dei posti di lavoro. La promessa di protrarre l'attuale appalto è stato disatteso, denunciano Carmelo Garufi e Francesco Lucchesi della Filcams CGL, Pancrazio Di Leo e Salvatore D'Agostino della Fisaskat CISL ed Eliseo Gullotti della Uiltux Will e della dimostrazione di un'efficacia azione amministrativa. Le famiglie e personale scolastico saranno costretti ad affrontare la violazione dei più elementari diritti. Il tavolo tecnico dello scorso febbraio con la giunta durante la protesta di sindacati e lavoratori è stato infruttuoso, spiegano i segretari. Gli 80 lavoratori del servizio di riflessione scolastica, i bambini soprattutto quel 60 per cento svantaggiato, avranno nuove difficoltà.